Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove fino alle 12 resteranno chiusi per allerta meteo e tratti tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni, sempre in A1 in direzione Roma a rallentamenti per lavori tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Firenze Nord. Per lavori di realizzazione della terza corsia stanotte in orario 22.6 resterà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, spostandoci sulla statale 1 Aurelia fino al 20 dicembre per lavori senso unico alternato tra i chilometri 363.200 e 374.200 in tratti saltuari. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!